un gol pazzesco amici sportivi ben ritrovati ben ritrovati in Endwall Mania puntata del 13 dicembre ospite in studio Francesco Ancona tecnico della Eurofasano che ringraziamo per aver raccolto il nostro invito protagonista delle ultime stagioni detentore della Coppa Italia parleremo di Coppa Italia perché si è proceduto all'assegnazione proprio alla Puglia delle due manifestazioni tricolore organizzate alla FIGIH FIGIH in questi giorni protagonista anche di un importante accordo saluto subito Matteo Aldamonte e do a lui la parola proprio per presentare questa grande novità che caratterizzerà il movimento della Pallamano italiana a partire da febbraio sì, buonasera a tutti grande novità la Pallamano approda ogni sabato sera in prime time in prima serata su Sport Italia con una match of the week a partire dal 13 gennaio con la gara di qualificazione dell'Italia contro le Isole Faroer una novità che vogliamo approfondire con questo servizio La grande Pallamano italiana sbarca su Sport Italia è ufficiale il nuovo accordo fra la TV dello sport diretta da Michele Crescitiello e la federazione italiana Gioco Handball presieduta da Pasquale Loria accordo al via col nuovo anno col 2018 copertura totale dei principali eventi stagionali della Pallamano tricolore le gare delle nazionali azzurre i campionati di A1 maschile e femminile e le finali di Coppa Italia e Supercoppa l'appuntamento che dovrà diventare abitudine è fissato per il sabato sera in prime time a partire dalle 20.45 con il fischio di inizio del match of the week per raccontare le emozioni più belle della Pallamano italiana un piatto ricco che si aggiunge al già tradizionale appuntamento con Handball Mania l'approfondimento in onda sempre su Sport Italia ogni mercoledì sera il primo evento il taglio del nastro è fissato per sabato 13 gennaio ovviamente alle 20.45 con il match Italia Isole Faro era valido per le qualificazioni ai campionati mondiali 2019 maschili a seguire le finali di Coppa Italia in diretta entrambe da Conversano nei weekend del 4 e del 18 febbraio poi via il campionato ogni sabato fino ai playoff scudetto soddisfazione è stata espressa dalla presidente federale Pasquale Loria per un grande appuntamento che darà alla Pallamano italiana la visibilità che merita in una tv che ha saputo negli ultimi anni dimostrarsi sensibile al fascino del handball ci sarà da divertirsi e allora buona Pallamano a tutti ed allora buona Pallamano a tutti un'occasione importante no Francesco sì buonasera a tutti sì è un'occasione importante perché penso che sia comunque uno dei tasselli mancanti appunto la tv visibilità e bisogna fare in modo appunto che ci siano più partite possibili più partite e anche di un certo livello quindi anche maggiori responsabilità per le squadre italiane secondo te? ma assolutamente ogni volta che la possibilità di poter entrare nelle case degli italiani anche di chi non segue abitalmente la Pallamano o chi non conosce la Pallamano ma sì tutto il prodotto diciamo dato in tv deve essere un prodotto buono qualitativamente e anche e non parlo solo della parte diciamo prettamente tecnica quindi sportiva ma anche per tutto quello che c'è intorno anche a livello di spettacolo deve essere dato una buona immagine della Pallamano assolutamente sì una buona immagine della Pallamano italiana saprà sicuramente offrirla a Conversano che sarà la sede delle due finalette di Coppa Italia sia quella maschile che quella femminile il mese di febbraio vedrà appunto il Palas San Giacomo protagonista dei due importanti e prestigiosi avvenimenti vediamo il servizio Scrivi Puglia leggi Pallamano ecco perché quando un grande evento del movimento approda nella regione pugliese non è esagerato ritenerlo un ritorno a casa una casa dove si fa bella mostra di trofei vinti tutti e tante volte 34 in tutto tra maschile e femminile di cui 12 scudetti 13 Coppa Italia e 9 Supercoppe italiane una serie impressionante di vittorie alla quale hanno contribuito la Meteora a Casarano ma soprattutto le realtà fiore all'occhiello della Palamano pugliese Junior Fasano e Conversano quest'ultima protagonista con uomini e donne e proprio ai suodalizi Fasanese Conversanese aspetterà l'organizzazione di uno degli eventi più attesi della stagione per club la Final 8 di Coppa Italia due volte dal 2 al 4 febbraio al femminile e un paio di weekend più in là dalla 16 al 18 febbraio al maschile tutto accadrà in un teatro straordinario uno dei templi autentici della Palamano italiana il Palazzo San Giacomo che quest'anno festeggia i suoi 20 anni il siparo si alzò per la prima volta in occasione dei giochi del Mediterraneo del 1997 quella volta l'Italia dell'Inno Cervar ha conquistato la medaglia d'argento nel febbraio 2018 a 20 anni e poco più di distanza un altro grande evento coinvolgerà la Puglia le 16 migliori squadre dello stivale per due Coppe Italia nel giro di 15 giorni una cosa è certa sarà spettacolo Fasanone che avrà l'onere e anche l'onore di organizzare la manifestazione maschile mentre al conversano toccherà quello di organizzare la Coppa Italia femminile doppio onere perché siete anche i detentori del titolo sì sì è una bella è una bella occasione almeno in casa Fasanone ma so benissimo anche con Versano c'è tanta soddisfazione per questa per questa assegnazione anche perché credo che sia il giusto riconoscimento anche il lavoro fatto in questi anni dalle due società e nel maschile e nella femminile e quindi c'è anche grande collaborazione e quindi questa collaborazione vogliamo metterla appunto a disposizione della Palamano nell'organizzazione di questo evento chiaramente Fasanone che si presenterà in assi di partenza della manifestazione con l'obiettivo dichiarato di confermarsi detettore del titolo sì ovviamente ora parliamo di dati tecnici sì siamo i detentori del titolo e quindi è ovvio che così come è stato in occasione della Supercoppa italiana dove volevamo comunque difendere il titolo anche in questa occasione e come sempre lotteremo per vincere poi soprattutto perché giocheremo comunque in casa quindi in Puglia vogliamo porteremo tanto pubblico e quindi l'obiettivo è sicuramente quello di vincere c'è tempo però prima di arrivare alla Coppa Italia c'è da sbrigare ancora qualche pratica importante campionato in regular season partiamo con la nostra analisi settimanale proprio dal Girone C vediamo emozionante e incerto a Vincente dal futuro sospeso il Girone C della Serie A1 maschile è un acquisito irrisolto un mistero sul quale è impossibile fare previsioni la lotta per il primo posto non cambia le sue attrici protagoniste che rispondono sempre ai nomi di Fasano e Conversano la squadra di Francesco Ancona passeggia sul campo del Ragusa mentre quella di Alessandro Tarafino soffre maggiormente ma vince 27-24 e mette in archivio la pratica Gaeta successo conversanese nel segno del campioncino di Casasperti e del terzino Dedovic entrambi autori di sei reti staccate dal duo made in Puglia ma tutte raccolte in una manciata di punti sono in quattro con tutto apertissimo con Gaeta sconfitta e Noci che trova due punti preziosissimi nella trasferta sul campo del Valentino Ferrara il risultato che più impatta sulla graduatoria e il ritorno prepotente del Fondi prova di forza dei ragazzi di Giacinto De Santes che spazzano via l'albatro Siracusa in casa 31-20 risultato mai in discussione laziali che cancellano con un colpo di spugna i risultati negativi del mese scorso candidandosi nuovamente a un ruolo da protagonista nel rush finale della regular season oggi è avvenuto tutto alla perfezione e devo dire che i ragazzi sono stati fantastici perché si sono applicati tantissimo in settimana su quelle cose che abbiamo provato abbiamo studiato bene il Siracusa sapevamo quello che avrebbero fatto e l'abbiamo tenuti molto bene mi fa piacere per come i ragazzi questa vittoria questa vittoria è loro è tutta loro perché so quando si stanno sacrificando e meritano questo successo due campionati in uno insomma che vede i protagonisti Fasano e Comersano che lottano per la prima posizione poi l'altro credo ancora più ingarbugliato interessante se vogliamo visto che sono tante le squadre interessante per i piazzamenti dal terzo al quarto posto e poi giù di lì ecco che rush finale prevedi Francesco soprattutto in casa Fasano ma per quanto riguarda i primi due posti è ovvio che sarà difficile intaccarli quindi il tutto penso che si deciderà nella partita del 23 dicembre a Conversano quando ci incontreremo quindi entrambe le squadre vogliono mantenere il primato sarà una partita equilibrata e vediamo chi sarà più bravo riuscirà a guadagnare la prima posizione rispetto all'anno passato il tuo Fasano cosa ha di più in questo momento cosa ha di meno se vogliamo avete avuto qualche contrattempo fisico sì abbiamo avuto qualche infortunio di troppo però stiamo recuperando io penso che nel complesso comunque abbiamo una una squadra di ottimo livello forse anche anzi sicuramente superiore rispetto a quella dell'anno scorso e quindi so bene che recuperando tutti riusciremo a ritornare ai livelli che ci competono ovvio dall'altra parte c'è un Conversano che si è rinforzato e quindi comunque si è avvicinato legittimamente ambizioso si è avvicinato molto più di quanto lo era l'anno scorso a noi e quindi diciamo che c'è una una lotta importante che appunto anche molto stimolante sì stimolante due società che lavorano spesso a stretto contatto di gomito ma che sul campo poi sono giustamente avversate se la legge ci propone la classifica al prossimo turno ecco ci aiuti a decifrare questo rebus parlava di un rebus Matteo per quanto concerne le posizioni alle spalle del tandem ma fa sano come il sano ma è difficile fare previsioni perché fino ad ora tutte le previsioni sono state smentite quindi dall'albatro che è ovviamente favorita per una situazione prettamente di classifica fino al Gaeta quindi parlo giusto in ordine di classifica penso che sia ancora tutto da decidere perché ci sono molti scontri diretti e quindi non so non ripeto potrei fare potrei azzardare potrei azzardare dicendo albatro ma solo perché si trova in testa questo momento è fondamentalmente un punticino in più rispetto alle altre esatto il prossimo turno vedete con albatro conversano che sicuramente sarà gara assolutamente da seguire ora un break un break nella trattazione maschile perché sono in corso di svolgimento i mondiali femminili Matteo siamo arrivati alla fase dei quarti di finale una fase che già sta dando conferme importanti in termini di avanzamento delle squadre si rivede il Montenegro tale grandi avversario dell'Italia nelle ultime qualificazioni agli europei avevamo detto di tenere da parte il Giappone che ha perso contro l'Olanda ai tempi supplementari quindi occhio al Giappone in ottica olimpiadi andiamo a vedere però alcune delle azioni più spettacolari degli ottavi di finale perché appunto c'è stato davvero grande spettacolo questa è una doppia parata di Sandra Toft portiere della Danimarca contro la Germania a proposito Germania che ha lasciato anzitempo il tabellone delle grandi di questi campionati mondiali la squadra padrona di casa si è fermata proprio agli ottavi superata sul 21 a 17 dalla Danimarca questa è la doppia parata dell'estremo difensore danese Toft andiamo in casa Paraguay Maria Paola Fernandez Estiga Ribia questa è una giocata in seconda fase ha tirato da casa sua quasi praticamente dagli 11 metri un missile assolutamente imparabile nella gara contro l'Argentina qui però non siamo nella parte alta del tabellone di questi campionati mondiali perché il Paraguay appunto gioca per la Presidents Cup ovvero le gare di piazzamento della manifestazione Andrea Lekic della Serbia alla posizione numero 3 grandissima giocata di una delle giocatrici più forti al mondo guardate il passaggio dietro la schiena per il pivot serbo questa è una grandissima giocata che riapprezziamo anche nel replay dietro la schiena eccolo qua il passaggio e poi mi sembra di conoscerlo questo pivot eh sì è la switch grande giocatrice anche lei questo è un altro gran passaggio al pivot e lo mette a segno Laurisa Landre della Francia vediamo l'azione e c'è la palla sulla linea dei 6 metri palla raccolta con una mano dal pivot anche questa una grandissima giocata Francia che è approdata proprio ai quarti di finale e affronterà il Montenegro altro quarto di finale pazzesco quello tra Norvegia e Russia che si gioca proprio questa sera mentre questo è uno scarico per l'ala incredibile della bella giocatrice brasiliana del replay si apprezza ancora maggiormente tra le gambe ha messo il pallone guardate bene opp palla tra le gambe scarico all'ala che poi la mette dentro è una gara contro il campo giocata quasi da basket questa qui e dall'appuntamento mondiale passiamo rimanendo in tema femminile ai risultati a quello che è successo e sta succedendo nel massimo campionato femminile la decima giornata di campionato di serie a uno femminile restituisce una classifica spaccata in tre grandi gruppi di squadre conversano e salerno danno l'impressione di partecipare ad una corsa quasi esclusiva privata perché entrambe vincono ancora e creano un divario pari a cinque punti messi fra la seconda e la terza posizione agevole l'imposizione della capolista che al pala San Giacomo liquida la pratica ad osso buono con il risultato di 36-21 protagonista ormai scontata Laura Rotondo con Noveretti a referto fatica maggiormente Salerno che i due punti li coglie in trasferta e sul difficile campo dell'Oderzo equilibrati i primi 30 minuti chiusi sul 13-12 in favore delle campane nella ripresa crolla la percentuale al tiro di Duran Salerno e squadra d'esperienza e Lauretti con una prestazione coraggiosa non fa rimpiangere l'assenza dell'infortunata dalla costa finisce 26-20 non una vittoria delle campane il passo falso di Oderzo propizza il sorpasso del Cassano Magnago nuova terza forza del campionato grazie al 28-27 in rimonta contro Bressanone e di misura sofferto anche il 28-25 con cui Casal Grande esce a punteggio pieno dalla trasferta in casa di Teramo la rimonta delle ragazze di La Suli ancora più incredibile Abruzzesi in vantaggio 16-11 alla fine del primo tempo Casal Grande la rimette prima in piedi e poi la gira a suo favore super raccuglia con nove reti punti preziosissimi anche quelli del Flavioni alla prima gioia in campionato dopo il 35-27 contro Ferrara le Laziali agganciano Teramo a due punti completando una terza porzione di classifica che inizia con Bressanone a sette punti e che nel mezzo vede il lento procedere di Brescia bloccata sul pareggio in casa delle stense ed allora con Francesco ancora anche un focus sulla campionato femminile dove mi pare il dominio di conversano e sereno sia abbastanza incontrastato c'è meno equilibrio rispetto probabilmente al maschile per quanto suddiviso in tre gironi sì penso che stiano facendo un cammino abbastanza scontato appunto l'unica partita dove c'è stato c'è stato qualche sprazzo di livello in alcune partite però capita sempre però penso che il dominio sia incontrastato quindi le prime due posizioni non non credo quanto secondo te dovrebbero crescere le altre per poter rendere questo campionato anche il campionato femminile un tatino più incerto se vogliamo si sta facendo un buon lavoro a livello giovanile è ovvio però che ci vuole ci vuole tempo ci vuole qualche anno quindi non è semplice le giocatrici migliori sono comunque ripartite nelle due squadre diciamo nei primi posti e quindi è ovvio che l'equilibrio si sposta verso l'alto però ci sono ci sono alcune squadre come lo derzo il cassano che comunque tengono tengono il passo e quindi arriveranno poi a giocarsi le loro chance nella fase finale e anche Coppa Italia se vogliamo allora visto che insomma sottolineava Francesco Alcona che molte delle giocatrici di interesse nazionale sono suddivise nelle due squadre in questi giorni si è radunata anche per partecipare ad un torneo in Francia una nazionale femminile sperimentale con molte secondarie e molte giovani che avranno così l'opportunità per maturare un'importante esperienza internazionale prima della partenza per la Francia abbiamo ascoltato l'impressione di Coach 3D esfruttiamo quest'occasione per poter provare alcune giocatrici per chiamarne altre per visionarle altre per esempio stiamo parlando dei portieri Meneghini e Pettale a posto di Locchini e della Ferrari quindi è un'occasione per vedere queste giocatrici su una base però solida di giocatrici già della senior per cui abbiamo chiamato diverse di provata esperienza per avere una base di gioco e mettere insieme queste nuove ragazze e allora prove generali in vista di un futuro si spera migliore nazionale azzurra femminile che dovrà prepararsi per il doppio confronto con Slovacchia e Polonia per poi chiudere con il Montenegro il suo ciclo internazionale un'occhio un'occhio anche alla maschile perché a proposito di serbatoi della nazionale insomma Aglione Orfasano fornisce molti atleti alla nazionale azzurra allenata Riccardo Trilini nazionale attesa a gennaio di un importante avvenimento appuntamento insomma proprio per tutto il movimento a Bolzano con la qualificazione mondiale Sì è un appuntamento importante dove l'Italia sicuramente non arriva alla favorita e quindi secondo me può giocarsi le sue possibilità per fino in fondo Ecco quanto potrebbe essere importante anche per tutto il movimento nazionale con il risultato della nazionale Penso che sia la priorità è inutile dircelo ma tutto il movimento di tante nazioni nazionali e di tante federazioni si poggia proprio sulle vittorie delle squadre nazionali quindi ci sono anche campionati di livello nettamente inferiore rispetto a quello nostro però le nazionali sono di altissimo livello quindi penso che il lavoro della nazionale i risultati della nazionale siano prioritari dobbiamo tutti concentrarci su questo obiettivo perché è il tassello numero uno Sono d'accordo con te Francesco tra poco ritorneremo ad occuparci del massimo campionato con Paschina analizzando anche cosa è successo nel girone A e nel girone B ora una breve pausa con uno spot promozionale e passiamo all'argomento natale che cosa regaliamo quest'anno idee? una bella stilografica personalizzata un calendario con i nostri prodotti ogni mese uno diverso un'argentina di pelle profilata in argento un classico un bel cesto di prodotti tipici scusate scusate ridardo una partita è dura da più del previsto ma come ho fatto a non pensarci questo sì che è un regalo originale quest'anno regaliamo gli internazionali di tennis a Natale non essere scontato regala un'emozione scopri sul sito tutte le soluzioni dedicate alle aziende ed allora di nuovo in studio per analizzare cosa è successo cosa succederà nel prossimo turno nel girone A del massimo campionato maschile Bolzano continua in una corsa priva di ostacoli indisturbata uomini di Fusina primo nome nella lista di ingresso alla club prive del girone unico lo dice un ruolino di marcia perfetto immacolato i campioni d'Italia superano anche la prova derby sul campo del Merano prendendo il largo nel primo tempo chiuso 16-10 e parando i colpi del ritorno dei diavoli meranesi nel corso di una ripresa coinvolgente finisce 29-27 Merano rallenta ed è costretta a guardare da lontano le posizioni che più contano in ottica pool playoff alle quali invece si presenta in pole position a Bressano ad una ottava vittoria stagionale di enorme peso colta al Palavis contro Trieste 25-23 resta i sci anche Bressanone 35-23 senza storia contro Mezzocorona torna il buonumore in Casamano dopo il 31-29 esterno che costringe Cassano Magnago ad un altro passo falso il sesto consecutivo momento nero per i Lombardi mentre vince di misura Lappiano 23-22 contro Molteno sono ora 10 i punti in classifica per l'organico di Marcello Rizzi il mister ci ha chiesto di essere concentrati sin dal principio questo è quello che abbiamo cercato di fare abbiamo iniziato un po' in sordina come il nostro solito però dopo con quel parziale abbiamo subito messo l'impronta che volevamo a questa partita così è stato alla fine è giusto che il Merano con la loro grinta e la loro voglia giustamente sono rientrati ma insomma l'abbiamo controllata per tutto il tempo credo la partita l'abbiamo persa soprattutto nel primo tempo dove non siamo neanche partiti male però abbiamo sbagliato qualche occasione creata e abbiamo subito soprattutto qualche contropiede di troppo che ha permesso al Bolzano di allungare campionato molto equilibrato anche quello che vede le squadre del Girone A con il Bolzano che fa corsa a sé ma alle spalle del Bolzano è Bagarre assolutamente Bagarre sì e Bagarre rispetto al nostro Girone c'è una grossa grande lotta per il secondo posto vedo leggermente favorito il Pressano anche per l'abbiamo è stato che è partito un po' con il freno a mano di lato probabilmente anche Orfano di Dumic lì si è avvertita un po' l'assenza è partito in qualche punto in meno però ha recuperato alla distanza ma l'esperienza di questa squadra probabilmente potrà fare la differenza nel rush finale Bressanone squadra solida Merano incostante nel rendimento forse un po' troppo giovane nella squadra di Prantler sì la squadra di Prantler è un po' troppo giovane vedo bene anche Trieste può rientrare in questa lotta guarda che affari spenti però sta portando avanti Trieste ha sempre una grande tradizione certo ha sempre un buon organico una squadra di lottatori un campo molto difficile come quello di Trieste ripeto Bressanone e Trieste lotteranno fino alla fine per cercare di spodestare il Bressano questa è la previsione di Francesco ancora previsione peraltro tra virgolette in prospettiva anche interessata vediamo anche perché poi alla fine dovranno tutte quante confluire nel girone unico e quindi sarà curioso poi verificare l'assortimento delle rosse vediamo rapidamente la classifica così per soffragare un po' quelle che sono le idee di Francesco Ancona con ecco vedete la grande lotta che tira in ballo le squadre dal secondo al sesto posto e poi prossimo turno con Trieste Cassano Magnaco probabilmente ultima chiamata per il Cassano di Colez scusate poi un Bozen Brixen che è match of the week anche su Pallamano TV c'è qualcosa da raccontare di molto importante anche questo in prospettiva Matteo sì importantissimo per gli appassionati di Pallamano per i giocatori per chi si sta appassionando con noi attraverso Endball Mania la pece la pece è una sorta di resina che i giocatori utilizzano per avere maggiore grip per avere maggiore presa sul pallone ecco la pece è al centro della notizia che abbiamo selezionato questa settimana che andiamo a vedere con l'aiuto del touch perché il presidente della IHF in occasione dei mondiali ha annunciato che la federazione internazionale sta lavorando ad un pallone in collaborazione con la Molter che non necessiterà della pece questa è una notizia di questi giorni che arriva per motivi di marketing perché la federazione internazionale vuole evitare palloni sporchi dove non si vede il marchio del partner commerciale della federazione ma vuole cercare di aiutare anche le società non soltanto di vertice perché lo sanno bene i club italiani nei palazzetti quando ci si approccia per la gioia dei custodi degli impianti la pece non è ben vista non è benata assolutamente attendiamo con ansia questa novità abbiamo proprio un flash da dedicare al girone B del massimo campionato se la legge può proporci rapidamente la classifica del prossimo turno poi approfondiremo nel prossimo numero di Enmoremania il quadro della girone B del massimo campionato qui c'è Bologna in testa e anche in questo caso c'è grande lotta per le posizioni immediatamente alle spalle della squadra di Beppe Tedesco con il Cologna che però pare abbia trovato il passo giusto no Francesco? Sì sì anche in questa situazione credo che Cologna sia leggermente favorito ma le altre due squadre subito alle sue spalle lotteranno perché è un girone molto molto equilibrato probabilmente di livello leggermente inferiore rispetto agli altri due però c'è molto equilibrio opinione questa condivisa da tutti gli addetti ai lavori a me non resta che salutare e ringraziare Francesco Anconi in bocca al lupo per il tuo prossimo impegno di cambiato partita delicata no? insomma arriva il fondi sì assolutamente è in crescita da prendere sempre con le pinze grazie a Matteo Aldamonte noi ci ritroviamo settimana prossima solito orario solito emittente Sport Italia da ieri ufficialmente la tv della Palla a Mano per quanto mi riguarda è tutto grazie per la cortesia e attenzione e non dimenticate di contagiarvi con la Palla a Mano arrivederci un gol pazzesco